Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Permangono alcune criticità legate al maltempo di questi giorni, raccomandiamo di mettersi in viaggio esclusivamente per motivi di necessità e di mantenere la massima prudenza alla guida, in particolare in prossimità di zone alberate. In A11 i rallentamenti tra Prato-Ovest e l'allacciamento con l'A1 in direzione Firenze. L'uscita di Lucca-Est, provenendo da entrambe le direzioni, è chiusa per i mezzi pesanti con massa superiore alle 3 tonnellate e mezza. In Filippilipe gli eventi alluvionali, tratti chiusi tra Interporto-Toscano-Est e Lavoria in direzione Firenze e tra Lavoria e Colle-Salvetti in direzione Livorno. Chiuso al Bivio-Firenze-Livorno provenendo dalla 12 in direzione Sud. Il maltempo provoca numerosi provvedimenti anche per il trasporto ferroviario in regione, tutti i treni interessati sui nostri canali social. Linea ferroviaria sospesa tra Prato e Vernio, almeno fino a domani, domenica 5 novembre. E anche per oggi è tutto, a domani, buon viaggio!